Onorevoli camerati, vi prego di concedermi un poco della vostra benevola attenzione. Io vi parlerò delle condizioni in cui versa il gruppo di industrie che meglio conosco. Sono industrie che, pur non essendo tra le grandi, meritano la nostra attenzione. Se voi, onorevoli camerati, foste al posto di questi industriali e di questi operai, non ridereste questi industriali che hanno tanto sofferto per la crisi. Quando vedono una nuova costruzione, un nuovo progetto, pensano, ma ci sarà lavoro per la nostra officina? E gli operai avviliti dicono, neanche questa volta ci sarà lavoro per noi. Si è sempre detto, onorevoli camerati, che l'architettura fosse la madre di tutte le arti, delle maggiori e delle minori. Ma un'arte che sopprime le sue figliuole non è più una madre buona. È madre mostruosa. Ma un'arte che sopprime le sue figliuole non è più una madre. Ma un'arte che sopprime le sue figliuole non è più una madre. Ma un'arte che sopprime le sue figli. Vicky vuoi una tazza di tè? Si grazie. Ma un'arte che sopprime. Ma un'arte che sopprime.